Sistemi due modi di farlo, uno quando si è stato introdotto il pomodoro, quindi la solita pestata di lardo, le verdure tritate o con cassetti verdure, poi si fa un mazzetto di odori a parte che viene recuperato, i fagioli devono essere messi a bagno 12 ore prima, i fagioli secchi, e dopodiché si porta a cottura. La proporzione dei piccerei di regola è il 60 di farina e il 40 di pane, e invece quelli basotti, che sono i veri originari, vuol dire perché vengono mangiati con i cucchiaini e sono un po' più brodosi, non c'è il pomodoro, c'è la pestata sempre di grasso, la pestata del lardo con prezzemolo e aglio, e dopo si scottano le verdure da sole, ossia si prendono le carote, la cipolla e il sedano, si fanno passare da sole, poi si aggiungono al brodo, che il brodo deve essere sia alla pestata, che deve essere un mestolo e mezzo per ogni commensale, si possono anche renderlo un po' più denso, leggermente un po' più denso, alcuni usavano ad aggiungere in questo caso una mezza patata, schiacciata, addirittura adesso col sistema nuovo frullano anche un po' di fagioli in più e poi glieli aggiungono.